130 volumi che sono oggi a disposizione di qualsiasi cittadino, così come avevamo ancora prima messo in online tutti i 120 volumi della Commissione P2. Poi tutta l'inchiesta sulla loggia massonica P2 e i documenti che sono annessi per tutta l'attività che è stata svolta da questa Commissione. Materiale preziosissimo, documentazione che per chi la conosce senz'altro fornisce un contributo di conoscenza anche del caso Moro e della storia del nostro Paese, della storia contemporanea. Il fatto che si è annessa alla Commissione P2 tutto il materiale relativo a Pecorelli, al processo Pecorelli, tutto quanto riguarda il traffico di armi e di droga, tutto quanto attiene al procedimento sul golpe borghese. E' lì che si trovano i documenti sul maloppino, il maloppone, cose preziose. Ecco, noi abbiamo svolto questa attività e continuiamo su questa strada. Ed è logico che ci sia da parte nostra correttezza nel rispettare questa documentazione, di farla vivere. perché molto l'abbiamo imparato anche stasera, è stato fatto anche a Milano, in questo archivio sono depositate carte preziosissime per i ricercatori. E quindi era logico che quando io sono stato interrogato da questa nuova Commissione Moro il primo problema che dovevo porre era proprio quello della documentazione, l'acquisizione della documentazione che non c'è. Perché più poi guardiamo questi documenti ci accorgiamo di quello che manca. E quello che manca è un oceano al pari di quello che abbiamo. E sul caso Moro sono scomparsi i documenti più importanti. E' possibile dare un giudizio, una Commissione parlamentare che viene chiamata a dare un giudizio sul comportamento degli organi dello Stato, di come ha funzionato lo Stato in quei 55 giorni e non ha la possibilità di nemmeno avere a disposizione i verbali di quel comitato che dirigeva, che aveva la responsabilità della gestione della crisi, il comitato interministeriale per la sicurezza, per le informazioni e la sicurezza. Abbiamo un verbale, il primo, e poi però di tutti gli altri è scomparsa la documentazione. Così come è scomparsa la documentazione dei comitati che si riunivano presso il Veminale. è compito della nuova Commissione cercare un varco, una spiegazione precisa e se non si ritrovano vanno indicati i responsabili. Una responsabilità che ha questa Commissione è proprio anche quella di indicare chi ha commesso degli errori, chi è responsabile di certe mancanze, sono viventi o morti, non importa, abbiamo bisogno di saperlo storicamente. Ed è logico quindi che ci si muova in questa direzione. E invece notiamo che su questo fronte la Commissione non si muove, almeno in un caso sembrava muoversi e poi tutto si è fermato. Noi nel nostro archivio avevamo un documento, l'abbiamo prodotto su richiesta di uno di questi magistrati che lavorano per la Commissione. Ed era il documento che riferiva che in via Fani hanno dei proiettili usati nella sparatoria di via Fani, c'erano dei proiettili di provenienza di un nascondiglio dell'Italia settentrionale di un deposito di cui avevano le chiavi, che avevano possibilità di accesso soltanto sei persone. Un documento siglato dal questore di Roma De Francesco e siglato dal capo della Degos Pinel. E' tutto quello che ci si tratta di Roma C'erano. Grazie a tutti.